Ha scampato il sequestro per pochi minuti. Il giovane ingegnere originario di Novivelia, Alessandro Sansone, è tornato nel suo paese natio lunedì sera e ancora deve riprendersi da ciò che è accaduto in Libia a tre dei suoi colleghi e che avrebbe potuto toccare anche lui. Alessandro Sansone, 28enne, da quattro mesi era partito alla volta del paese africano, dove, per conto della società Piacentini Costruzioni, stava lavorando all'ammodernamento del porto di Zuara, mettendo a disposizione la sua professionalità. Zuara gli era stata assicurata come città tranquilla, anzi era stata indicata come luogo da raggiungere in caso di problemi negli altri centri librici dove la società ha i suoi uffici. Eppure proprio qui è avvenuto il rapimento. Sansone alloggiava assieme ad altri colleghi in alcuni appartamenti vicini tra loro. Sabato scorso, come ogni mattina, è partito da lì per raggiungere i cantieri. La sua auto si è mossa per prima, poi qualche minuto dopo è partita quella con a bordo il bosniaco Peter Matic, il macedone Emilio Gafuri e l'italiano Marco Vallisa. Sono stati proprio questi tre a venire intercettati dai rapitori. Sul posto di lavoro non si sono presentati e subito è stato chiaro che qualcosa fosse accaduto. Notizia confermata di lì a poco, in un clima politico agitato e con rapimenti all'ordine del giorno, in Libia anche i tre tecnici sono stati presi. Per due di loro, Matici e Gafuri, tutto si è risolto per il meglio, domenica sono stati liberati. Dell'ingegnere 53enne Piacentino Vallisa invece non si hanno ancora notizie, sebbene la farnesina abbia attivato tutti i canali. L'ingegnere di Novivelia dunque l'ha scampata per pochi minuti. Poteva esserci lui sull'auto fermata dai rapitori, una fatalità, un appuntamento con il destino che non era però rivolto a lui. Dopo la vicenda, per motivi di sicurezza è stato rimpatriato e ora dice che Libia non ci tornerà più.